Ilari Blasi e Francesco Totti sono giunti a una separazione parziale. Ma cosa è successo? Le ultime news sulla coppia. Cosa succede fra Ilari Blasi e Francesco Totti? La conduttrice e l'ex calciatore sono arrivati a una separazione parziale. Ma cosa vuol dire? Attualmente Ilari Blasi sembra essere alle prese con il nuovo capitolo di Unica. Il suo documentario torna su Netflix, ma avrà un titolo diverso dal primo volume uscito lo scorso novembre. Inoltre, come specificato da chi, non parlerà della separazione da Francesco Totti, ma della rinascita della conduttrice. Prossimamente, poi, Ilari tornerà anche sul piccolo schermo e dal palco di battiti live presenterà la musica dell'estate al fianco del suo carissimo amico Alvin, con il quale ha collaborato diverse volte per lavoro. Nel frattempo la causa di divorzio da Francesco Totti va avanti, mentre il pupone continua la sua relazione con Noemi Bocchi. Ecco cosa leggiamo su chi. Sarà un percorso lungo. Ilari, come spesso accade in questi casi, ha fatto richiesta di separazione parziale. La curiosità è come mai non l'abbia fatta Totti, visto che il capitano sta portando avanti progetti di famiglia con Noemi Bocchi. Nel frattempo, qualcosa è cambiato sui loro social, Cosa succede fra Ilari Blasi e Francesco Totti? Ilari Blasi e Francesco Totti sono arrivati a una separazione parziale. Ma nel frattempo sui loro profili Instagram, è cambiato qualcosa. Entrambi hanno cancellato le foto con i loro rispettivi partner. Rispettivamente Bastian Muller per lei, e Noemi Bocchi per lui. La strategia, secondo molti, è stata suggerita dagli avvocati. Come detto, comunque, i due hanno raggiunto un primo accordo di divorzio. Ma cosa vuol dire? Cos'è una separazione parziale? Per il momento, dunque, la sentenza di separazione non è affatto definitiva. Attraverso quella parziale, a cui sono arrivati Ilari e Francesco, il magistrato ha la possibilità di limitare la decisione ad alcune domande proposte, disponendo una prosecuzione dell'istruttoria per le altre.